Le Olimpiadi? Sì. È l'incontro di oggi. Mi spiace che il Sindaco Marino non sia venuto. La ritengo un'assenza giustificata perché ha da fare, deve preoccuparsi dei conti di Roma. È una città che è sull'orlo del fallimento della bancarotta, come lui stesso ha riconosciuto, e non mi pare proprio che una città in queste condizioni possa candidarsi a ospitare le Olimpiadi, francamente. E questo dirò oggi al Presidente del CONI. Per me la candidatura di Milano con Expo e la prospettiva del sito Expo è e rimane la più forte. Mi auguro e spero che il CONI e il Governo sostengano questa candidatura forte.